Ho presentato un emendamento che verrà discusso al prossimo Consiglio regionale per intervenire sulla tematica della realizzazione dei forni crematori in Regione Abruzzo. Parliamo di una questione delicata e complessa che va presa veramente con attenzione per tutelare tutti i diritti coinvolti, sia dei diritti ad avere un servizio diverso dalla semplice inumazione e tumolazione, sia soprattutto del generale diritto di tutti i cittadini alla tutela ambientale e alla salute. L'emendamento impone alla maggioranza di centrodestra in Regione Abruzzo di adottare un piano di coordinamento previsto dalla legge nazionale che doveva essere adottato già dal 2001 con il quale fare il punto della situazione e individuare sia i criteri per la localizzazione sia soprattutto quelle norme tecniche per limitare qualsiasi forma di inquinamento atmosferico. Nessun impianto di cremazione potrà essere realizzato in Regione Abruzzo fino a quando questo piano non sarà stato approvato dal Consiglio regionale. Vista la contrarietà degli esponenti locali, del Partito Democratico, di Forza Italia e della Lega, io mi aspetto che parlino e facciano pressione con i loro corrispettivi all'interno del Consiglio regionale affinché questa norma, questa sì una norma di civiltà, venga approvata e il piano proceda della maniera migliore.